che ci rimandano un sindacalista dvb pagina 69 quando rivediamo certi oggetti che ci rimandano con la loro storia a una vita che riteniamo povera inutile prima di giudicare inutile quella vita dovremmo sapere ciò che abbiamo imparato da quella vita ossia la sua proporzione evolutiva il vecchio aprì la bocca guasta senza capire tu vivendo tanti anni in carcere hai fatto un'esperienza molto importante disse nicola pur sapendo che in quel momento la sua spiegazione sarebbe stata inutile questo significa che i tuoi codici hanno vibrato in un certo modo e non come avrebbero vibrato qualora fossi stato un uomo libero ma quello che tu hai compreso da questa esperienza è divenuto parte del tuo essere ed è la proporzione evolutiva dell'evento vibratorio chiamato carcere veramente disse il vecchio questa volta ironico veramente confermò nicola seriamente il vecchio non fece altre domande salutò nicola indifferente e svanì tra le grandi pentole insieme alle parole incomprensibili e per lui ridicole che aveva appena udito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti